Il Cervinara prosegue la preparazione per il suo secondo campionato consecutivo in eccellenza. I caudini che quest'anno saranno allenati da mister Giuliano, fortemente rinnovati nel pacchetto a retrato, avranno tra le proprie fila Raffaele Cavallini, centrale, ex Nola e Santomaso. Il calciatore si dice entusiasta della nuova esperienza. Io si dico che ci devono stare sempre vicino, al di là di tutto, perché cerchiamo di fare un grande campionato. E mi ha fatto solo piacere. Sì, sì, quest'anno è più forte dell'anno scorso, è un buon campionato equilibrato. E speriamo di fare il nostro meglio partita dopo partita e speriamo alla fine di dare le somme. Scendendo nel campionato di promozione, il Santomaso di mister Franco Iannuzzi si candida ad essere una delle principali protagoniste del girone C. I bianco-verdi stanno svolgendo la preparazione pre-campionato al De Cicco di Prato-la-Serra, Definito lo staff dell'ex tecnico di Eclanese e Massavellino, Fulvio Pellino svolgerà il ruolo di secondo, Andrea Grasso, quello di preparatore atletico, Pino Curto sarà l'accompagnatore e Gianluca Pelosi continuerà a ricoprire il ruolo di magazziniere. Nel frattempo sono arrivati tra le fila dei grifoni due under, Alex Andolfo e l'esterno sinistro Pasquale De Martino. I due calciatori classe 99 provengono entrambi dalla Virtus Golla. Inizia la preparazione anche della neopromossa Bellinum, la squadra di Della Rocca si ritroverà al Valle Verde.